Si chiama Alan Gosling, è un uomo inglese che pensate ha fatto sapere di essere purtroppo coinvolto nella influenza aviaria. Infatti lo ha contratto lui stesso, è devastato nel sapere che le sue amate anatre siano state fatte fuori come il sancio in forma. E' padre di tre figli, ha contratto un'influenza aviaria da contatto piuttosto forte e costante con delle amate reservatiche di cui si è preso cura nel Devon in Inghilterra a Bukhafeslicht. L'uomo a 79 anni di età ha testato la parattia dopo che un greggio ero carico di 160 anni ha risultato positivo alla influenza aviaria. Insomma, l'uomo ha detto io sto vivendo letteralmente un incubo e per il fatto che ho preso questa influenza aviaria e perché le mie amate anatre sono state fatte fuori, sono state abbattute. 150. Soffre insomma non soltanto per il suo stato di salute ma anche per le sue amate anatre. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Le anatre originariamente vivevano in un'area pubblica, quindi accessibili a chiunque, nessuno ne scuso. Ciao da Leonardo, narratore italiano.